perché non si ha fatto un manco, non si ha fatto una volta l'inghia l'ha bruciato una volta arriva qua e poi ci faccia celebrava qui l'ora sale che spai chi è... ...tada che bemmo uuuuh 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 ma che significa che ne dada venga ma anche se ne vada uuuuh un ghebbiaggio che scala la montagna uuuuh 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 uuuuh